che cazzo te lo magna questo maria vittoria ma dov'è? più o meno come fa il piccione caduto giù dal cornicione ecco la traduzione se andiamo giù di copia ripetito e si belicente mangiato e si vede 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 annaggio la matita no vedere il mio anzi il disegno di mio cugino vero? ma Roberto è Nicolò però il cugino wow che bello commenti sul disegno? è difficile non è vero l'ha fatto un bimbo di 14 anni e mezzo però è un po' il pranzo il mio Roberto è andato male non è vero bello eh allora questo anzi questo è il d'angelo che si riconcilia nella faccia di sicurezza di tutto il mondo che ti guarda e Dio che guarda a loro e basta scusa scusa non so ma prima il d'angelo no prima il d'angelo scusa vabbè da prima il d'angelo poi il d'angelo è bruttissimo essere immortali ma la madre lo è non far vedere la brutta ah si questo è il mondo fatto male questo qui è il mondo dopo la creazione voilà 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 ecco e Gesù disse voglio creare il mondo no Gesù Dio creare il mondo trarà eccolo qua e ora una persona eccolo qua e ora una donna eccola qua scusate che il foglio si è piegato e non mi voglio metterlo in basso ecco brava Peppa grazie e ora vediamo il parco quello è un albero lo vedete eccolo la è un albero eccolo la eccolo la e quell'altro è il lettore ah ah che non si vede ma voi con tanta con tanta fantasia dovete riuscire a capire dov'è il lettore eccolo la ma non si vede perché non sa usare lo zoom è quello che sta a dormire che all'altra parte no quello che sta a dormire si è appena alzato si è alzato e si è andato e ci sa un ragazzo barasignore non capisco se è il giovane o vecchio che si guarda intorno e ci sono appare ma 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 da dove l'hai giudato dallo sfondo del mio cellulare e ora guardiamo le famose scarpe di tazza sperimenti di margherita no no meglio di no meglio di no meglio di no ciao 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 ciao